E' un modo di dire ma è la realtà, le mani di questo club italiane sono quelle di Tofoli. Sì, grossa responsabilità, questo qui per me è il quarto anno qua al club Italia, quest'anno avrò la possibilità di sperare, speriamo al meglio nella seconda serie nazionale. Le mani di Tofoli, ancora le mani di Tofoli credo che ci stia molto a molto lontano, anche perché come ripeto sempre è meglio non fare un paragonio confronti con mio padre, perché lui è stato un giocatore simbolo, un giocatore cardine della pallavola italiana. Io cerco solo di divertirmi, quest'anno per me sarà anche un anno importante a livello accademico, perché finirò il quinto liceo scientifico con la maturità, quindi ne approfitterò comunque per giocare in A2 e quindi cercare sempre ovviamente di migliorare con il duro lavoro in palestra e speriamo che a fine anno i miglioramenti si vengono. Ecco, tu 18 anni, una di quelle età bellissime in cui si comincia a pensare quale sarà il futuro, tu ti vedi un campo da pallavolo? Eh, questa qui è una bellissima domanda, anche perché ancora non so io stesso cosa farò, e una certezza è che a fine del liceo intraprenderò un percorso universitario, non so ancora in che facoltà, dovrò ancora scegliere, dovrò ancora, tra virgolette, orientarmi quest'anno, però ecco, diciamo, il sogno di ogni ragazzo è sicuramente trasformare la propria passione, il proprio gioco, soprattutto per me, che da quando sono piccolo assaporo i campi di pallavolo, è quello di poter riuscire a vivere per un certo periodo ovviamente, perché la carriera da pallavolista è molto breve, con, diciamo, uno stipendio pallavolistico. Una promessa che mi sono fatta a me stesso e anche ai miei genitori, ai miei familiari, è che comunque, qualunque scelta faccia al prossimo anno, andando via dal Club Italia, continuerò comunque con l'università, vorrò laurearmi, per avere comunque una sicurezza dopo un'eventuale carriera pallavolistica. Grazie.